Signor Presidente, colleghi rappresentanti del Governo, con un grande rammarico siamo ad intervenire con l'ennesima questione pregiudiziale, perché per l'ennesima volta state legiferando nel caso di specie ratificando, senza alcun rispetto dei principi espressi nella nostra Carta Costituzionale. Probabilmente ci direte che siamo populisti, demagoghi e chissà cos'altro. Peccato che però questa pregiudiziale si basi su una questione concreta. Il rischio della mancata applicazione della normativa antimafia italiana grazie a una cessione di sovranità dell'Italia in favore della Francia. Noi probabilmente siamo troppo pignoli, vi diamo il marcio ovunque, anche dove non c'è. Questo può essere. Se fosse così, allora invito tutti a spiegarci il senso del contenuto dell'accordo, perché le motivazioni forniteci dal Governo in Commissione non ci hanno per nulla convinti. Perché cedere sovranità alla Francia? Perché sottoporre il promotore pubblico, che è una figura perfettamente paritetica tra Italia e Francia, alla sola Costituzione francese. Se si legge testualmente l'articolo 6, il ruolo del promotore, il 6.5 parla proprio delle condizioni di aggiudicazione e di esecuzione dei contratti relativi ai lavori, forniture e servizi necessari per la realizzazione delle missioni legati a progettazione, realizzazione ed esercizio nella sezione trasfrontaliera, quindi quella che arriva fino a Bustoleno e territorio pienamente italiano, per queste opere il promotore è tenuto all'osservanza della Costituzione francese. La domanda che ci siamo posti è perché non si fa un riferimento alla normativa italiana, perché non si fa cenno alla Costituzione italiana. Se ne può tranquillamente dedurre che il promotore non sarà sottoposto alla normativa di contrasto al fenomeno della penetrazione nelle opere pubbliche di mafia, Andrangheta e Camorra. È giusto o ci sbagliamo? Se fossimo malpensanti, ipotizzeremo che ci sia una volontà di concedere più facilmente appalti ad aziende non proprio amiche della legalità. Il presente accordo poi mira a disciplinare le condizioni di realizzazione del progetto di collegamento ferroviario, misto merci e viaggiatori tra Torino e Lione. Questo lo recita la relazione introduttiva. Proprio in relazione a questo passaggio introduttivo, però, non si può nascondere che la Commissione Mobilità 21 francese, istituita presso il Ministero dell'Ambiente, ha escluso nella sua relazione finale di procedere ai raccordi e alle linee esistenti, dicendo che la Commissione non è in grado di garantire che il rischio di saturazione della linea avverrebbe prima del 2035-2040, quindi la qualificata come priorità secondaria, come seconda in priorità. Si evince che la Costituzione, scusate la Francia, non procederà a sviluppare i raccordi e ciò equivale a far mancare una condizione necessaria per la ratifica dell'accordo in oggetto, che invece li prevede. L'accordo in oggetto costituisce infatti espressamente protocollo addizionale dell'accordo quadro del 2001 e dunque ogni condizione che infici il primo determina la nullità del secondo. Questa condizione, la ratifica di un accordo ineseguibile, costituisce di per sé una palese violazione dell'articolo 97 della Costituzione, che, lo ricordo, impone il buon andamento della pubblica amministrazione. Ecco, se secondo voi questo è normale, è plausibile un atteggiamento del genere, non sembra doveroso, almeno da parte vostra, una spiegazione di quanto non è appena rilevato. Per non parlare poi delle disposizioni contenute all'articolo 10, che col solito magheggio faccio una previsione nella prima riga e faccio un'eccezione nella seconda, fa sì che il promotore possa godere di un'ampia discrezionalità nelle decisioni che porterebbero lo stesso a rifarsi esclusivamente sul diritto francese per risolvere le questioni. Questa è un'ulteriore marginalità per l'Italia e per la giustizia italiana, perché noi siamo i soliti volponi. Questo è l'ulteriore motivo che ci ha spinto a presentare la presente pregiudiziale di costituzionalità, perché forse non è chiaro, non è chiaro a molti, che la previsione di queste disposizioni del nostro ordinamento violerebbe la nostra cara carta costituzionale, in particolare all'articolo 3, il principio di uguaglianza, il 24, il diritto di difesa, poiché a coloro che subiscono lesioni nel territorio italiano verrà applicata la normativa francese e inoltre alla violazione dell'articolo 25, che prevede l'attribuzione alla giurisdizione francese per i processi per danni subiti a chiunque su territorio italiano, il che porterebbe alla violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge. A vostro parere, anche questo rilievo è superfluo esattamente come la mancata applicazione della normativa antimafia? Dimenticate che le aree oggetto della sezione trasfrontaliera si estendono su territorio italiano da confine fino a Bussoleno. Questo è quello che ha suscitato per noi notevoli perplessità, perché Bussoleno, fino a prova contraria, si trova in Italia. Il punto 10.2 prevede in tema di condizioni di lavoro e di occupazione del personale, sempre in questa sezione trasfrontaliera, che ovviamente si applichi la normativa francese. Quindi, esecuzione degli apparti per l'installazione dell'attrezzatura e dell'opera, che sostanzialmente riguarderà la quasi totalità delle condizioni di lavoratore e di occupazione del personale, sarà sottoposta al diritto francese. Ora, alla luce di quanto ho esposto, spero che ci sia un punto di riflessione da parte di tutti. Il nostro appello è di fare uno sforzo e tentare di capire quello che stiamo facendo. Non è possibile che si faccia sempre tutto di corsa, con il rischio, anzi ormai la certezza di andare a un incontro con la Francia con solo l'approvazione di una delle due Camere. Che razza di procedura è questa? Cioè, in quale testo costituzionale è prevista? La risposta ce l'ho io, sicuramente non nel nostro, magari in quello che uscirà nel Comitato dei 40. La ringrazio, adesso hai chiesto di intervenire il deputato all'Asia.